ciao a tutti sono mattia bentornati sul mio canale oggi vi parlo di questo mostriciatolo qui che è il baby frog di farins frames è un quad ultra leggero da 5 pollici richiudibile come potete vedere ed è un modello che mi sta piacendo veramente tantissimo e che ormai è sempre dentro al mio zaino anche perché occupa poco spazio lo vende sia in kit telaio da assemblare sia come pre assemblato questo era un pre assemblato e devo dire che anche la scelta dei componenti è stata davvero azzeccata vi lascio alcune considerazioni e vi mostro un po com'è composto il modello e poi una prima clip in volo per vedere come si comporta con la stabilizzazione su hero 9 naked cercherò di portarvi altri video su questo modello perché lo sto usando davvero tanto e voglio trovare dei luoghi che gli rendano giustizia vedete qui il baby frog chiuso molti di voi si chiedono se effettivamente una volta aperto ci siano problemi e i braccetti possano chiudersi da soli io l'ho provato intensamente non ho avuto questo problema vi mostro come si fa ad aprirlo sostanzialmente si va a far leva dalla parte dei braccetti si spinge con i pollici si incastra senza dover allentare o stringere le viti stessa cosa per le due i braccetti posteriori e vi accorgete che è in posizione perché il profilo del braccetto segue quello della top plate poi gopro e antenna come vedete rimane comunque un modello compatto anche da aperto configurazione dead cat per non avere le eliche nel feed della gopro o meglio se andate a vedere il filmato in super view o in quattro terzi vedete un po le eliche però come immaginerete questo tipo di modello si utilizza con la stabilizzazione real steady o con altri tipi di stabilizzazione che vanno poi accroppare un po l'immagine e quindi in realtà poi non vedrete assolutamente le eliche andiamo a vedere subito il peso del modello e le batterie con cui l'ho provato per capire un po i tempi di volo e soprattutto se si riesce in qualche modo a stare sotto i 250 grammi anche se secondo me è totalmente inutile il modello con gopro hero 9 black naked pesa 211 grammi ho visto che con altri modelli di cam naked si riesce a scendere sotto i 200 e questo è importante perché vedremo che ci sono batterie che ci fanno arrivare vicini ai 250 grammi e quelle batterie sono le 4s 450 mAh questa è di tattoo e è una batteria che è un po sottodimensionata per questo modello ma che mi ha dato comunque cinque minuti di volo che sono un ottimo risultato considerando che questo quad l'ho testato in questo periodo in cui le temperature da me sono abbastanza basse i voli che ho fatto erano tutti attorno ai 5 gradi e quindi l'efficienza delle batterie diminuisce parecchio considerate che su un 5 pollici normale una batteria mi dura anche poco più di metà quando questo è il periodo dell'anno vado a pesarlo con la batteria vedete che arriviamo a 266 grammi quindi con una gopro più leggera si potrebbe arrivare a 250 grammi ripeto non è una cosa importante perché in ogni caso non è quello che vi porta nella piena legalità andiamo a vedere con una batteria secondo me più adatta a questo modello che è la 650 mAh sempre 4s questa volta airline e arriviamo a 290 grammi quindi peso ottimo per un 5 pollici ultralight e con questa batteria sono arrivato ai 9-10 minuti sempre con le condizioni di cui stavamo parlando quindi con parecchio freddo la batteria poi che invece io voglio utilizzare su questo modello e che utilizzerò principalmente è questa che è una 3000 mAh lithium ion prodotta da faringe frames sostanzialmente montando assieme 4 celle 18 6 e 50 che dovrebbero essere le viti c6 quindi le migliori per quanto ne so ho provato sia questa che un'altra di jeep rc che dovrebbe essere fatta con le stesse celle le prestazioni erano simili e questa batteria mi ha permesso di arrivare a quasi 20 minuti sempre considerando che parliamo di temperature basse quindi efficienza più bassa della batteria 20 minuti senza andare sotto i 3 volt per cella che quindi mi permette di avere ancora un po' di margine su questo tipo di batterie essendo molto conservativi quindi atterrando a 3.3 volt che invece dei 3 volt e quindi su una lithium ion con ancora un ampio margine di volo si superano comunque i 12-13 minuti e essendo un 5 pollici gestisce piuttosto bene il peso di questa batteria che effettivamente è più di quello del modello infatti vedete siamo a 411 grammi il modello pesa 211 e la batteria pesa quasi quanto il modello sul 4 pollici dubito che si riesca a volare in questa configurazione con prestazioni buone ma qui il quad si gestiva piuttosto bene per quanto riguarda l'hardware installato su questo modello partiamo dall'esterno abbiamo i motori che sono dei brother hobby 1504.5 da 2650 kv per 4s quindi ikv su 4s ottimo per quando si vanno ad utilizzare palie come queste bipalia molto leggere con un passo che è importante ma distribuito su due palie quindi con una buona efficienza abbiamo il gps che è un m8 q 5883 gps che supporta anche la bussola e quindi si può utilizzare per la navigazione autonoma con inav anche se sinceramente anche sul mio 7 pollici sono andato a togliere inav perché preferisco le prestazioni di betaflight a per esempio il position hold e quei sistemi di guida autonoma che in realtà per noi non sono poi così indispensabili c'è un buzzer sul fronte posizionato dietro alla cam fpv ed è un vfly finder mini bisogna saperlo un po usare sostanzialmente quando volete disattivarlo dovete ricollegare la batteria al quad dopo averla tolta per meno di sei secondi e allora si stacca altrimenti c'è il tastino sempre da tenere premuto ricevente abbiamo una ricevente crossfire e si può scegliere se avere la crossfire oppure una ricevente fr sky se comprate il modello preassemblato come questo ovviamente sistema digitale dji caddx vista perché per le dimensioni di questo modello non si sarebbe potuto fare altro e sul fronte la nebula pro che per me rimane la miglior cam per il sistema digitale dji andando a considerare anche le dimensioni infine tutto il modello è spinto da un esc 4 in 1 con fc integrata quindi una scheda che ha tutto integrato processore f7 il produttore è jmcu che è un produttore che ho apprezzato molto nell'ultimo periodo e che produceva la fc del mio ultimo quad economico mostrato sul canale la fc all in one ha gli eschi integrati da 35 ampere quindi più che sufficienti e si potrebbe utilizzare anche a 6s ma per questa configurazione si è scelto di utilizzare dei motori che vanno a 4s secondo me 6s su questo modello non sarebbe una scelta vincente perché non riuscireste ad utilizzare una 6s 18 650 per il peso chiaramente e quindi a 4s dove possiamo trovare le batterie migliori per il tipo di volo che vogliamo fare con questo modello soprattutto se andiamo a considerare il peso per il resto vi faccio notare alcune soluzioni interessanti come il supporto delle antenna pieghevoli questo è un supporto che secondo me è stampato in resina fatto secondo me molto bene e che va a rendere veramente compatto il modello quando lo si richiude supporto per il gps qui dietro quindi lontano dalla gopro che essendo naked è meno schermata e potrebbe darci dei problemi di disturbo è sempre stampato in 3d ottime stampe sempre di faringe frames e l'unica altra stampa che troviamo nel modello è il supporto della cam che va bene sia per questa cam ma anche per una cam nano se doveste cambiare la nebula pro normale con una nebula pro nano visto che ora sono state introdotte ora smonto la bottom plate per mostrarvi come è distribuito un po' lo spazio nel modello e per farvi vedere come è stato assemblato bene e come sono state fatte bene le saldature come vedete la caddx vista è stata fissata alla top plate anzi la bottom plate con del biadesivo soluzione secondo me che va abbastanza bene volendo si potrebbero sfruttare i fori della bottom plate per andare ad avvitarla secondo me è uno spreco di peso anche perché con il biadesivo buono questa non andrà assolutamente da nessuna parte vedete i cablaggi che vanno alla ricevente gps e la caddx vista non è niente di estremamente complicato se voleste assembrarlo voi volendo fare la versione analogica andremo a montare la vtx qui e ovviamente lo spazio se ci sta il digitale ci sta anche l'analogico la antenna immortality è stata fissata qui sotto sempre con del biadesivo forse la posizione della immortality si può migliorare e magari avere un supporto per montarla qui dietro potrebbe aumentare un po' a range devo dire che comunque anche così non ho avuto assolutamente problemi di range e il limite rimane sempre la batteria per me quando si parla di droni e il long range grosso da chilometri e chilometri si fa sempre con ali più che con i quad ora vi lascio qualche clip registrata con questo modello per farvi vedere giusto qualche manovra e farvi capire che comunque ha della buona agilità e la possibilità di muoversi bene in volo farò altri video su questo modello appena riuscirò a provarlo in qualche posto più interessante come al solito in descrizione vi lascio i link per acquistare sia il baby frog come kit telaio da assembliare voi sia la versione ready to fly di farins frames che completa di tutto viene a costare circa 450 euro prezzo secondo me è più che giusto considerando che avete 140 euro 150 euro solo di cadix vista quindi il resto lo pagate circa 300 e anche i prezzi della cina in questo momento non sono molto lontani e sicuramente non avete un frame con un carbonio e delle soluzioni tecniche di qualità come questo spero che questo video vi sia stato d'aiuto se lo è stato iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per attenzione ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti